Buonasera a tutti ragazzi Buonasera a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale con un nuovo video e con due bellissime vittime cioè più o meno Oggi cosa faremo? Chi mi conosce meglio tra il mio ragazzo e la mia migliore amica Stupido Mi discosto no 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 si scherza Tra il mio migliore amico e la mia ragazza Ma quali sono le regole? Qua qua Dandomi copia le idee No, semplicemente mi vendico di quello che ha fatto Risposta errata alla domanda in questione si fa immersione nella ciotola di acqua Alla quarta risposta errata si fa o a sinistra o a destra nella farina, se ben vedete qua c'è farina Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a torturare queste Qual è il lavoro dei miei sogni? Youtube Youtube Si, Youtube No, bravo, bravo Qual era la mia risoluzione l'anno scorso? Eh? Come è andata a finire il mio anno scolastico dell'anno scorso? Promosso No, no, ma è una parte promosso Ah, promosso Qual è la mia principale ambizione per quest'anno? Passare gli esami di recupero Riuscire a realizzarti tutto Anche si Quanti figli vorrò avere? Due Due Ho cambiato un po' Ma dai L'accettiamo L'accettiamo Dove voglio vivere per il resto della mia vita? In Bologna In Bologna Non ci vengo Non di certo qua Si, in Italia ma non in figli Si, ma il tempo E' vero E' vero E' vero E' vero Va bene Ho in mente un'auto Allora Che auto comprerei? Si, è giusto E' tratti Cioè Nel senso Fuori dal Friuli Lo accetto Dai, lo accetto Siamo buoni all'inizio Quale auto vorrei comprare? Questo voglio proprio per te Mercedes Un Mustang Hai sbagliato completamente Meglio Mercedes E' una delle macchine che mi piacerà capire Qual è il mio segno zodiacale? Bilancia Bilancia Dai dai Colore preferito? Rosso Nero Rosso Basta Ok, ok Dai, per ora è tutto ok Sono più estroverso o introverso? Introverso Dipende Cosa vuol dire? C'è da dire che dipende No Dai, non esiste dai Per piacere No, lui è molto introverso Non è molto introverso Si, si Non è molto introverso Qua, qua non posso dare un vincitore Perché con le persone stranie Cioè stranie Stranie No Nel senso Con le persone che non conosco Potrei essere introverso Ma con quelle che conosco Sono estroverso Quindi è sbagliato Nooo Cosa vuoi? Va bene, va bene Non diamo il vincitore Abita tu Quello è il mio cibo preferito? Pizza Bevanda preferita Succarace Fanta Tu hai sbagliatissimo Ma avete sbagliato tutti e due Lemon soda È vero Ma che schifo Ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Arrangiata sarà meglio la faccia Fanta scelta Cosa odio mangiare? Tre alimenti voglio Tre alimenti Tre Finacchio Sushi Sì, sushi Vero Io prosciutto cotto Ma l'hai mangiato io? Un punto Ma lui ha detto che non gli piace Vabbè Tu hai sbagliato Ma nooo E da no che ti ripeti prosciutto cotto e non è vero E ti dico Vediamo se si salva Broccoli Bravo L'accetto, l'accetto Ti sei salvato in corner Perché hai preso il suo sushi E Bravo, bravo Mi piace questa tecnica Cosa consiste la mia colazione? Attenzione Caffè latte E se capita Cereali O biscotti Allora adesso fai il giorno intermittente Quindi non fa colazione No, ma stai un spunto Questo qua è rimasto un po' indietro Solo perché oggi ho preso il caffè latte Tu pensi che non fai il giorno il caffè latte? No, no, no C'è la prova oggi hai preso il caffè latte Nella tua colazione No, no, no Scusi No, l'ideale non hai detto ideale Boh Eh sì perché io non faccio colazione Ma che c***o Vuol dire io appena non ho Eh così termine No ma hai appena mangiato Sì Alle dieci Ma che è alle dieci? Ho mangiato le ore? Appunto allora non è appena È dieci ore fa Vabbè è sempre colazione No, no, no Io non ho accetto Qual è il dolce di cui non posso fare a meno? State attenti alla risposta perché non è banale Fiocco di nere Baba Fiocco di nere Nooo Ma sei sempre che dici babà, babà, babà Allora Eh, devi semplicemente Gange a destra dai Gange a destra Quella è sinistra Vabbè Quella è sinistra Guardate che bella che è Genere di musica preferito Ma sai che forse O classica Sai che forse Matteo non l'ascolti, però ti piace Ma guarda che se ti piace No Ma chi è stato? Il jet Ti piace? Ah questo vuol dire il reghetto Ma che raggiunto come è No, no No, no Non era la mia risposta No, no Non era la mia risposta Come era la mia risposta Come era? Hai detto? Hai ricomincipato, la destra NO 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 male Qu'è stata la stanza Sta staNE Eh Mahle HIPOP Quindi hai sbagliato anche tu PAPP mangia PAPP PAPP Hab hai detto JIPOP E nach dettimo PAPP No che schifo Oh Oh rehab Chifo Wi insufficient hai fatto Ma io stai facendo ma cosa fai preferisco visitare attrazioni turistiche o andare fuori dai sentieri battuti La prima io ti dico visitare anche la prima ho mai arbitrato partite si Quali sono le tre cose a cui penso di più ogni giorno a me a youtube a stare bene No ma dai a youtube e a Jackie è importante perché tutte e due ma no i versi delle finali finisce qua il video Che Dai dai dici queste tre ultime cose Allora Danny son d'accordo Qual è la nata? Youtube Youtube son d'accordo Non lo so neanche No 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 Allora Danny son d'accordo youtube e la palestra Ragazzi il video è stato bellissimo no? Ci sarà una vendetta Andate a vedere l'altro video che abbiamo fatto con Leo e se volete riprendere i vecchissimi video che abbiamo fatto sempre con lui Andate a riprendere anche quelli la Ma La Indietrissimo Ma l'importante è che vediate quello precedente a questo qua In cui Danny ci tortura Beh è lui Lui è sempre la vittima quindi ci aspettiamo una vendetta Ci sarà ci sarà Iscrivetevi al canale Attivate la campanella No ma no no Ma è la mia frase Guardo lui e parlerei Ma io non ti stavo guardando Ma io si Iscrivetevi al canale che il 70% di voi non è iscritto quindi ci fate un favore grande Così Attivate la campanella Condividete a tutti i video Il video finisce qua e ci vediamo a un prossimo video Ciao ciao Ragazzi comunque ha vinto Leo quindi Bravo Leo Un applauso a lui ma comunque sono stati bravi tutti e due Abbastanza Chi più chi meno Comunque dai di poco c'è da dire di poco Ha vinto tutti e due Ciao 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 Ciao